Do il benvenuto alla dottoressa Caterina Chincoli, benvenuta fisioterapista, io saluto e ringrazio anche la signora Assunta perché presterà, farà da paziente, dobbiamo cara dottoressa spegnere questo dolore che tormenta la nostra sciatica e allora iniziamo subito a capire quando una persona viene nel suo ambulatorio e lamenta questo dolore che cosa si fa dottoressa? Allora iniziamo a spiegare la sciatica o meglio l'ombosciatalgia che cos'è, è un dolore che è localizzato all'altezza di L4, L5 e S1, S2, S3, questi praticamente fasci vanno a inserirsi, quindi la fascia dei nervi spinali lombari vanno a inserirsi con la fascia dei nervi spinali sacrali all'altezza del muscolo piriforme, è un muscolo che si trova all'interno del gluteo. Cosa succede? Che c'è una compressione del nervo sciatico, il nervo sciatico è il nervo più lungo e più voluminoso che il nostro corpo possa avere e riportandolo sulla paziente, quindi trasferiamo questa informazione sul paziente, il tratto interessato sarà il tratto lombosacrale, quindi la bassa schiena, che può interessare anche purtroppo il gluteo, può scendere verso la parte posteriore, a volte anche laterale della coscia, fino ad arrivare al piede a luce o quinto dito a seconda dell'altezza della compressione del nervo sciatico. E c'è un test? C'è un test che viene utilizzato per eccellenza, che è il test di la seg. Allora, la paziente si distende, prego. Quindi, supponiamo che, ed è vero, abbia il dolore sull'arto destro, in questa maniera il terapista in maniera passiva, quindi lo farò io, chiederò di portare in alto l'arto fino a quando non sentirà dolore. Una volta sentito il dolore, chiederò di riflettere il ginocchio, se cessa il dolore, a quel punto il test è positivo. Ah, ok. Per cui, questo è la prima valutazione. La prima valutazione. Già, immagino, parlando con la paziente, voi facciate un'idea, insomma, delle cause. Le cause, sì, assolutamente. Le cause possono essere varie, protusione, ernia, stenosi del canale vertebrale, come anche sedentarietà, sovrappeso, problemi viscerali, è la cosiddetta anche sindrome da piriforme. Quindi, se è contratto questo muscolo, che avevamo detto, che è molto profondo, si trova all'interno del gluteo, può portare alla sciatica. Allora, come si interviene? Lei ha portato questo macchinario? Io ho portato un macchinario, perché la lombosciatalgia ha diverse fasi. Nella prima fase, ci troviamo nella fase acuta, dove il dolore è urente, è forte. Magari c'è un'idea, perché non riesce tanto a camminare il paziente. Allora, a quel punto, unito chiaramente al trattamento farmacologico, quindi del medico competente, utilizziamo dei trattamenti fisioterapici che sono antinfiammatori e antidolorifici. Questa è la Tecar, no? È la Tecar. Che fa la Tecar? Allora, la Tecar è un macchinario che serve a sfiammare, a levare il dolore e a ripristinare la parte cellulare, quindi una cascata di riparazione cellulare, ok? Quindi la faccio vedere. Sì, assolutamente sì, facciamo vedere come funziona così per dar modo anche a chi ci segua a casa. Assolutamente. Pancia sotto. Ok. Allora, la Tecar come funziona? Ha una piastra che si dovrà mettere al di sotto della pancia del paziente e in questo caso simuliamo chiaramente un trattamento perché deve essere sopra la cute del paziente. In più abbiamo un manipolo, utilizzeremo il resistivo perché l'intensità deve essere molto bassa e dobbiamo andare in profondità, quindi sulla parte ossea, sulla parte tendina e legamentosa che è meno imbibita di acqua. Che cosa sente? Che cosa avverte il paziente? Cioè, si crea un campo elettromagnetico, quindi si crea un calore endogeno che è molto, a detta del paziente, sempre molto piacevole anche perché possiamo unire anche dei trattamenti manuali, quindi su tutta la colonna vertebrale oppure pompage, allungamento del tratto lombosacrale, quindi diciamo, oltre a fare un trattamento per sfiammare, c'è anche un trattamento piacevole del paziente che si rilassa pure durante il trattamento. Quante sedute di Tecar devono dipendere? A seconda dell'entità del danno, del dolore, sì. Lei ha detto bene, allora non solo Tecar, perché sicuramente la tecnologia ci aiuta, ma ci sono anche dei trattamenti manuali. Vogliamo farli vedere, dottoressa, quali sono questi trattamenti? Assolutamente. Allora, ci mettiamo pancia sopra, quindi supina. Il primo esercizio che propongo, chiaramente, ripeto, ci troviamo in fase acuta, quindi dobbiamo immaginare che questa zona è congestionata e non solo tutta la parte degli atti saranno contratti. Quindi piegheremo le gambe, il primo esercizio che chiederò al paziente è l'antiversione, la retroversione del bacino, quindi portare, lei lo sta facendo benissimo, portare il pube verso di lei e il coccige, invece, schiacciato sul lettino. E in che modo ci aiuta questo? Questa è una mobilità del tratto lombosacrale, quindi ripristiniamo quella mobilità che si è interrotta a causa del dolore, chiaramente. Del dolore, proprio questo è il primo esercizio fatto sotto osservazione, poi vi faremo vedere anche degli esercizi che si possono fare in autonomia. Assolutamente. Questa è la prima manipolazione, dopo la Tecar si fanno anche questi trattamenti. Vediamo il secondo trattamento. Un altro esercizio è che, ripeto, anche questi possono essere fatti a casa, comunque sia nella fase acuta, ripetiamo, quindi ci troviamo quando c'è un po' più di dolore, è la flessione dorsale e la flessione plantare del piede. Quindi in questo caso cosa facciamo? Facciamo due cose, riattiviamo la circolazione venosa e riattiviamo la circolazione linfatica. Un'altra cosa, allunghiamo la catena posteriore dell'arto, ok? Quindi possiamo anche chiedere al paziente di rimanere 10 secondi in allungamento di tutte e due gli arti inferiori. Allora, rispondiamo ad Angela, dottoressa, ci scrive dalla provincia di Frosinone, ci chiede, da qualche giorno ho dolore alla sciatica, è meglio se rimango stesa a letto? Anche in questo caso. È vero quando uno ha un dolore alla sciatica non riesce né a stare steso, né in piedi, né a camminare? Io ce l'ho avuto, me lo ricordo, perché insomma è invalidante, è una brutta sensazione. Che cosa bisogna fare? Allora, prima di tutto, il mio consiglio è non cercare di stare troppo fermi, quindi di ascoltarsi e di alternare il momento di riposo con il momento dell'esercizio oppure della camminata, quindi non stare sempre a riposo. Non stare a riposo. Allora, noi abbiamo detto che non solo sicuramente la figura del fisioterapista è determinante, soprattutto quando è un dolore alla sciatica che perdura nel tempo, per cui quando diventa cronico. E allora bisogna capire come ci possiamo aiutare. Lei ci ha fatto vedere alcuni esercizi. Adesso ci sono altri esercizi che noi possiamo fare in autonomia a casa? Sì. Allora, il primo esercizio è lo stretching del piriforme, quindi quel muscoletto un po' fastidioso. Quindi chiediamo al paziente di piegare le gambe, l'arto interessato che il destro sarà sopra l'arto controlaterale, chiederò al paziente di prendere con tutte e due le mani di avvolgere la coscia e di portarla verso il petto. Chiaramente già c'è un po' di difficoltà, però cerchiamo piano piano, magari con l'aiuto del terapista all'inizio di portarlo verso il petto, unita alla respirazione. Quante volte a casa devono provare a fare questo esercizio, dottoressa? Sempre prima, fatevi consigliare sempre da fisioterapista? Assolutamente, da un esperto. Dopo, iniziata a fare gli esercizi a casa in maniera autonoma, mi raccomando. L'allungamento 30 secondi per 5 volte, poi man mano che si va avanti la muscolatura si scioglie e possiamo continuare ad aumentare magari le ripetizioni. Vediamolo, questo è il primo esercizio? Questo è il primo esercizio, il secondo esercizio è l'allungamento dell'arto inferiore. Quindi ho portato un elastico, l'elastico verrà messo sotto l'avampiede e tirato dal paziente. In questo caso farò appunto un allungamento dell'arto inferiore interessato con l'arto controlaterale piegato, perché abbiamo visto che è assunta già a dei dolori, quindi preferisco lavorare con l'arto inferiore piegato, controlaterale, altrimenti l'arto inferiore potrebbe anche essere disteso e questo è un passo un po' più in là. Un po' più in là. Grazie, grazie di cuore alla dottoressa Caterina Chincoli, grazie per averci fatto vedere questi esercizi. Anzi, se li volete rivedere, scaricate la nostra app, la app di TV2000, Play2000, per poter rivedere tutta la puntata e in particolar modo gli esercizi che ci ha suggerito la nostra dottoressa fisioterapista, dottoressa Chincoli. Grazie.